Vai! Allora, benvenuti a tutti. Sono Giorgio, sono un istruttore di Amici di Bolle, che è un'associazione che abbiamo fondato insieme alla Liliana un po' di anni fa. Noi facciamo subacquea sia tecnica che ricreativa e siamo anche centro di formazione riconosciuto dalla Regione Liguria per quanto riguarda il defibrillatore semi-automatico. Naturalmente siamo di Genova. Abbiamo cominciato a fare questi webinar per distoglierci dalla voglia di andare in acqua e speriamo di andarci al più presto e di fare webinar solo per altri motivi. Questo mi sembra che sia il quindicesimo o il sedicesimo, hanno avuto un buon successo e io in questo webinar fungerò da moderatore, quindi se avete delle domande le potete fare sulla chat e io man mano poi le farò alla Liliana che sarà il nostro mentore oggi per quanto riguarda la meteorologia aggregata alla subacquea. Liliana è anche il nostro presidente. Con questo direi che possiamo iniziare e darei la parola subito alla Liliana. Bene, allora intanto vi faccio una premessa sul perché un webinar di meteorologia e subacquea. Allora, ovviamente non sono una meteorologa, però mi è venuta l'idea di farlo soprattutto perché noi tra dicembre e febbraio, inizio dicembre e inizio di febbraio, come istruttori di Amici di Bolle abbiamo seguito un corso di qualificazione come guide ambientali per la regione Liguria e durante questo corso abbiamo affrontato vari argomenti in tutti i settori che possono in qualche modo riguardare l'attività di guide subacque e uno è stato anche la meteorologia. In più io, avendo una laurea in scienze geografiche, un corso che è una miscellanea di tantissimi argomenti, anche durante il mio percorso formativo in università ho trattato l'argomento della meteorologia. Quindi avevo un minimo di conoscenze da poter condividere con voi. E poi mi sono detta che quante volte, quando andate a fare immersioni, c'è l'incognita meteo e c'è l'incognita come sarà il mare e quindi ci tocca veramente da vicino questo aspetto. Il punto è tante volte, non è capitato, io dico sempre, mi preoccupo meno di far alzare presto i ragazzi che abitano a Genova e poi di ritrovarci al diving e finire a prendere un cappuccino con la focaccia perché il mare non è nelle condizioni che ci saremmo aspettati quindi l'immersione non si può fare, no? Però se qualcuno invece parte da più lontano preferisco annullare la sera prima e non farlo partire perché mi spiace fargli fare tanti chilometri e poi non potergli fare l'immersione, no? Quindi a volte quando le probabilità di farla sono troppo basse magari preferisco optare, no? Sono scelte che ovviamente possono essere valutate in maniera differente da voi che venite a fare immersioni, no? Possono essere apprezzate o meno. Allora questa presentazione non vuole essere una serie di nozioni su che cos'è la meteorologia, toccheremo giusto alcuni punti fondamentali per farvi capire certi discorsi, ma andremo a vedere come la meteorologia si applica alle decisioni della subacquea, quindi a come si applica quando decidiamo se andare a fare un'immersione o no e cercheremo di farvi un pochino comprendere meglio tutti gli aspetti che entrano in campo quando vi diciamo se venire al diving oppure no perché visto che abbiamo tempo, no? Purtroppo dobbiamo stare a casa, non possiamo andare a fare immersioni cerchiamo di sfruttarlo al meglio, no? E di aiutarci a vicenda quindi ecco quello che vorrei fare oggi e come ha detto giustamente Giorgio però ovviamente se avete qualche domanda potete farle in chat e lui mi ferma già durante la presentazione oppure magari alla fine poi sapete che abbiamo un momento anche di confronto tutti insieme a microfoni aperti per rilassarci un po', no? Anche prima dell'inizio del webinar abbiamo sempre qualche minuto per rilassarci. Cosa Giorgio? No niente, dicevo che per chi non è di Genova oggi abbiamo una burrasca che sta portando via i vasi da fiori fuori dal poggiolo non so com'è lì il tempo, lì ma qua veramente... Non così terribile. No, qua sì. Va bene, quindi... Quello che andiamo a vedere è che cos'è la meteorologia nautica che cos'è la previsione del tempo meteorologico e i modelli secondo cui questa previsione viene fatta e vi assicuro che capirete lì perché a volte non siamo così bravi a prevedere se si può andare in occa oppure no andremo a vedere come si sviluppano le previsioni meteoromarine come leggere le app, visto che ormai le app sono a portata di tutti e quindi cosa succede? Che non le leggono il meteo, non lo guardano solo i professionisti che poi emettono i bollettini, ma lo vediamo tutti e tutti cerchiamo di darne una lettura. E poi concludiamo un pochino, tiriamo le fila di tutto il discorso. Allora, che cos'è la meteorologia? La meteorologia in generale è quella scienza che studia tutti i fenomeni fisici che avvengono ed interessano l'atmosfera. L'atmosfera è quel grande, vedete nel disegno, no? Quella serie di, quel miscuglio di vari gas e di vapore acqua e di pulviscolo atmosferico che circonda la Terra che ovviamente è divisa in vari strati, no? L'abbiamo tutti più o meno studiato nel nostro percorso scolastico. Quello che noi interessa, a dire il vero, è la troposfera che sono, diciamo, i primi 18 km, sono circa 18 km all'equatore mentre all'esempio sopra i poli si riduce di 7 km e che è la parte che contiene la maggior parte del vapore acqua e del pulviscolo atmosferico ed è la sede dei moti combattivi dell'aria. Quindi è per quello che la meteorologia nautica soprattutto si basa su questa fascia di atmosfera. La previsione del tempo meteorologico come viene fatta? Viene fatta attraverso ovviamente dei modelli. I modelli sono fondamentalmente delle equazioni prognostiche cioè delle equazioni che danno una previsione di quello che avverrà nel futuro. Capite già da questa affermazione, no? prevedere che cosa avverrà nel futuro che non potranno essere perfette non potranno davvero prevedere al 100% che cosa succederà, no? E soprattutto hanno bisogno di dei dati ben precisi hanno bisogno di sapere lo stato iniziale dell'atmosfera quindi qual è il punto di partenza hanno bisogno di sapere i fenomeni fisici che avvengono e serve un super computer per fare i calcoli. Lo vedremo anche più avanti ma sono tantissimi dati numerici che vanno elaborati e può essere fatto solo da un super computer. Nonostante tutto questo, nonostante tutti questi dati la previsione ha delle incertezze dovute a quella che è l'impredicibilità dell'atmosfera e quindi capite che c'è sempre un angolino c'è sempre una parte di previsione che non è proprio così sicura questo è dovuto, lo vedremo meglio quando vedremo un po' di storia di quella che è la nascita e l'evoluzione delle previsioni meteorologiche è dovuto alla teoria del caos quindi questo vuol dire che qualunque previsione non è mai completamente affidabile. Esistono due modelli principali di previsione il General Circulation Model, GECM e il limite d'area model perché ve li ho messi? perché dal primo nasce poi il secondo e perché sono questi modelli su cui si basano i bollettini che tutti noi andiamo a vedere noi in Liguria guardiamo spesso e volentieri il Lamma perché copre un po' la nostra fascia in realtà poi come bollettini meteomare copre anche altri settori del Mediterraneo poi ovviamente ognuno avrà le sue app preferite però tutti più o meno avete visto un'app di previsioni meteomarine si basano su questi modelli le differenze sono che il GECM quindi il General Circulation Model è un modello che fa previsioni su tutto il mondo e arriva fino a un massimo di 15 giorni quindi anche una previsione abbastanza lunga nel tempo è usato da pochi centri a livello mondiale nel nostro caso almeno questo prima della Brexit ora francamente non sono riuscita ad andare a controllare se dalla Brexit hanno spostato il sede però il centro europeo per la previsione a medio termine ha la sede in Inghilterra ripeto potrebbe essere che sia stato spostato a seguito della Brexit ma non mi sembra alcuni stati poi hanno il loro centro di previsione che fa le previsioni secondo il General Circulation Model non è il caso dell'Italia la differenza con il limite d'area model qual è? che il limite d'area model come dice il nome si basa invece su una area più limitata ovviamente però per fare la previsione su un'area più limitata bisogna avere i dati del modello generale ecco che allora perché è importante sapere che ne esiste un europeo ma è anche importante sapere che il GCM non esiste per tutti gli stati la Facoltà di Ingegneria di Genova ovviamente io parlo sempre più espressamente della Liguria di Genova perché noi abbiamo sede qua altre regioni possono avere altre facoltà altre università che se ne occupano ha un modello centrato sul Mar Ligure e sulla Liguria ahimè però il modello che ha la Facoltà di Ingegneria di Genova si basa sui dati del centro americano cioè il LAM sul Mar Ligure fatto dall'Università di Genova è basato su un GCM americano che quindi non è centrato sull'Europa ovviamente è centrato sul continente americano e già qui potete farvi delle idee e capire che ma come? se è centrato sull'America non avrai dati così precisi su quella che è l'Italia è una buona intuizione questa però la grossa differenza tra il centro americano e il centro europeo è che il primo è gratuito e quindi l'università che spesso e volentieri non ha fondi può avere i dati del modello gratuitamente mentre invece quello europeo una parte dei dati li rilascia solo a pagamento e quindi ecco perché a volte i LAM pur essendo su un'area più limitata e quindi uno dice beh un LAM è sicuramente più preciso non sempre dipende su quali dati si basa se si basa su un GCM che non è esattamente centrato sulla sua area potrebbe essere meno preciso di altre soluzioni poi ovviamente io sto semplificando molto queste sono linee guida generale un po' le caratteristiche principali di questi modelli però tanto per farvi capire come arriviamo poi ai bollettini alle previsioni che leggiamo tutti i giorni le numerical weather prediction questa NWP quindi queste previsioni numeriche sul tempo meteorologico hanno una storia hanno una storia che passa a grandi linee per questi quattro signori qua tanto per non che ve li dobbiate ricordare però è giusto ricordare che il primo ad aver fatto le equazioni che tra l'altro in parte vengono usate ancora ad oggi è stato questo signore che vedete sulla sinistra Wilhelm che è un fisico un meteorologo norvegese era è nato nel 1862 ed è morto nel 1951 e lui ha creato appunto queste prime equazioni il signore a fianco invece è interessante perché io vi ho detto prima che solo con un super computer si possono fare i calcoli delle previsioni i calcoli necessari alle equazioni per le previsioni bene questo signore invece aveva fatto la prima previsione manuale che poi si è rivelata sbagliata ma di cosa si è reso conto questo Lewis Fry Richardson si è reso conto della potenza matematica che era necessaria a fare questi calcoli serviva una potenza incredibile e avrebbe dovuto mettere insieme tantissimi scienziati per fare tutti i calcoli necessari e quindi si è arrivati a capire che era necessario un super computer cioè un elaboratore di dati che svolgesse tutti i calcoli per gli studiosi il signore a fianco invece Ciarney che cosa ha fatto invece nel 1900 è nato nel 1917 e è morto nel 1981 quindi stiamo parlando di una storia abbastanza recente lui invece ha fatto la prima previsione corretta con un super computer ovviamente io ho messo la particolarità ho usato un computer militare nel 1950 perché perché era di fondamentale importanza per le forze militari avere delle previsioni meteorologiche il più precise possibili e quindi come tante altre cose banalmente noi subacquei da dove arriva la nostra subacquea? arriva dalle immersioni militari le didattiche che ci insegnano ad andare sott'acqua dove anche hanno preso le procedure gli standard gli esercizi da insegnarci e beh li hanno presi dai militari ugualmente qua il primo ambito di applicazione delle previsioni meteorologiche è stato quello militare e quindi lui usando questo super computer che era in dotazione militare è riuscito a fare la prima previsione corretta il signore invece ancora a fianco Lorenz che in realtà è molto più recente lui è mancato nel 2008 quindi lui invece è quello che ha collegato le previsioni meteorologiche alla teoria del caos e quindi ha un po' sviluppato il concetto dell'impredicibilità dell'atmosfera di cui dicevamo prima quindi vedete che in questa slide con questi quattro personaggi che magari non avevamo mai sentito nominare prima io stessa ne ho sentito parlare all'università in un corso specifico che trattava di meteorologia e poi ne abbiamo sentito parlare con Giorgio durante il corso della regione eppure guardate in quattro persone come si sviluppa una cosa che ci tocca così da vicino tutti la mattina accendiamo la tv per sentire il bollettino meteo per sapere se ci sarà il sole o se pioverà ebbene tutto nasce da questi quattro signori ovviamente da altri scienziati che come loro hanno sviluppato questi temi una volta che abbiamo tutti i dati che questi signori ci hanno aiutato a poter utilizzare e che derivano dai modelli dove vanno a finire? vanno a finire in questo GTS che si chiama Global Communication System è un voi immaginate come una scatola dove vanno a finire tutti i dati che possiamo avere e ne abbiamo tantissimi perché abbiamo i satelliti che raccolgono dati abbiamo i palloni sonda che vedremo dopo perché insomma è una cosina un po' particolare simpatica da conoscere abbiamo i dati delle stazioni meteorologiche i dati che mandano le stazioni meteorologiche le stazioni meteo delle stazioni aeroportuali quindi degli aeroporti vedete vi ho messo un disegnino tanto per capire ma guardate quanti strumenti sulla Terra e nello spazio trasmettono dati tutti questi dati non vanno persi ma vengono immagazzinati per essere in qualche modo utilizzati ed elaborati quindi sono tantissimi stiamo parlando di un volume di dati immenso bene ne abbiamo vi dicevo tantissimi di questi dati però non sono sempre omogenei soprattutto per quello che riguarda la Terra nel suo insieme cosa vuol dire se voi guardate la mappa che vi ho messo questi qua sono la copertura di dati di tutte quelle di tutte le tipologie che vi ho messo prima che siano satelliti che siano palloni sonda che siano nave tutto quello che è tutto messo insieme beh vi accorgete dai pallini colorati di quanto sia disomogenea la loro distribuzione sulla Terra vedete che nella parte l'Europa è praticamente completamente colorata non ci sono spazi bianchi guardate dove c'è il blu e il rosso il blu dell'Italia e il rosso intorno lì non c'è un buco guardate sotto l'Africa quanto è bianca invece guardate i confini dell'Asia in alto a destra ci sono delle parti che sono bianche e delle parti invece estremamente colorate guardate gli oceani quanto poco sono coperti quindi abbiamo tantissimi dati ma disomogenei ci sono differenze tra quello che è il nord del mondo e quello che è il sud del mondo e tra quella che è la Terra e tra quello che è il mare quindi questo è un altro tassellino che andiamo a mettere nel nostro discorso generale abbiamo visto che la previsione esiste un'impredicibilità dell'atmosfera quindi la nostra previsione non sempre affidabile abbiamo tantissimi dati ma questi dati non sono omogenei e abbiamo dei modelli generali gratuiti e dei modelli non gratuiti per cui i nostri modelli ristretti i nostri LAM possono essere mal focalizzati chiamiamoli così apriamo ancora un focus su questi dati che ci arrivano i palloni sonda a me stanno particolarmente simpatici quindi volevo farvi concentrare un pochino su di loro i palloni sonda sono quei palloncini che sono veri e propri palloncini anche se più grandi e di materiale più resistente rispetto ai palloncini che usiamo per giocare e che vedete nella foto ecco allora questi palloni vengono rilasciati da Terra così come sta facendo quella studiosa e arrivano a un'altezza di 25-30 km rispetto alla crossa terrestre allora dovete sapere che in tutto il mondo alle 0000 alle 12 di ogni giorno si lanciano i palloni sonda cioè vengono lanciati in contemporanea e ogni stato lancia quelli che ritiene quelli che è in grado di controllare eccetera in Italia per esempio ne lanciamo 7 in ciascuna delle due fasce orarie Dilli scusa Matteo puoi chiudere il microfono per favore grazie quindi vengono ne lanciamo 7 in ciascuna delle due fasce orarie poi perché ve li ho fatti vedere no? perché in realtà non capita ovviamente in città nelle zone che frequentiamo di più e soprattutto adesso che stiamo a casa è difficile no? però potrebbe capitare se andate a fare delle escursioni no? in posti un po' più di trovare questi palloni sonda perché ovviamente poi dopo un po' il palloncino sale 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 e quando arriva a un certo punto scoppia e torna giù e l'università li deve poi recuperare comunque no? allora quindi il messaggio è se trovate dei palloni sonda precipitati comunicatelo ovviamente hanno tutti delle targhette di riconoscimento dei numeri e possono essere riconsegnati quindi non teniamocelo come ricordo se ci dovesse capitare ma restituiamolo allora quindi tutti questi dati tra cui quelli dei palloni sonda ci bastano secondo voi? no non sono sufficienti ne abbiamo una mole incredibile eppure per le nostre previsioni non ci basta allora cosa succede? e qua aggiungiamo un altro tassellino che ci fa capire come funzionano le previsioni se io non ho tutti i dati cosa vado a fare per creare una previsione? beh uso delle tecniche di interpolazione si chiamano cioè io ho due punti ma non ho tutto quello che sta in mezzo a quei due punti uso delle tecniche sono delle tecniche di interpolazione quindi indovino quello che sta in mezzo ai due punti quindi altro tassellino allora se non ho tutti i dati ne metto alcuni che ipotizzo siano quelli giusti però non posso avere proprio la certezza al 100% che siano proprio quelli giusti no? allora ecco che abbiamo anche l'accuratezza delle nostre previsioni può variare ok? quello che però abbiamo imparato noi durante i corsi che abbiamo fatto è che mediamente a livello globale oggi le previsioni a tre giorni sono molto vicine al 100% è la riga blu e quindi vedete che dal 1961 ad arrivare adesso questo grafico aggiornato al 2013 comunque vedete che la linea blu che sono le previsioni a tre giorni si è mano a mano assottigliata e tende sempre di più al 100% le previsioni invece a 5 giorni a 7 giorni a 10 giorni quindi rispettivamente il rosso il verde il giallo e beh vedete che sono ben ben più distanti dal 100% rispetto a quelli a tre giorni ecco perché a volte vi diciamo sulle immersioni aspettiamo non so che vorreste sapere la settimana prima se riusciamo andare o no però nella realtà è molto più facile dirvelo due giorni prima come saranno effettivamente le condizioni no perché? perché ci sono dei problemi che comunque riducono l'accuratezza li abbiamo già visti prima intanto le misure prima non le abbiamo visto però le misure potrebbero non essere proprio così precise potrebbero avere dei problemi l'accuratezza del modello abbiamo detto se io sono se la mia previsione si basa su un GCM che è focalizzato su un altro continente e beh potrebbe non essere così precisa gli schemi numerici il tempo computazionale e non dimentichiamoci mai questa impredicibilità dell'atmosfera però l'essere arrivati comunque con le previsioni a tre giorni così vicini al 100% è un ottimo risultato e ci fa capire che effettivamente se guardiamo le previsioni a tre giorni abbiamo un buon una quasi certezza che siano affidabili che cosa succede? perché a volte non ci azzeccano? perché il previsore che è quello che poi non è allora il modello le mappe che vedete sulle app nascono dai computer computer elaborano i dati e creano le mappe quello che invece c'è nei siti ma spesso e volentieri non guardiamo sono i bollettini che che stilano i previsori lì non è un computer lì è un uomo che ha un bagaglio di conoscenza una preparazione e stila un bollettino sulla base di quello che vede perché dovete sapere che il previsore davanti non ha un modello o meglio non ha non dal modello non gli esce una mappa con una previsione no gli escono tutte quelle che vedete per esempio nella slide la slide a titolo di esempio riporta i forecast quindi le previsioni di una tempesta che è stata il 24 dicembre del 99 tra Francia e Germania allora in alto vedete le previsioni quelle che alla fine erano state più o meno fatte e dove c'è scritto verification è quello che effettivamente si è verificato ma quello che i previsori si sono trovati davanti quando hanno messo tutti i dati negli elaboratori sono tutti quelli sotto cioè loro davanti avevano tutte quelle possibilità lì e sulla base di esperienza storico no tutto quello che succede normalmente dovevano stilare la previsione quindi pensate quanto è difficile produrre una previsione perché poi perché è importante che il previsore no conosca bene il territorio su cui fa la previsione è per questo perché in realtà il computer arriva fino a un certo punto poi lui deve andare a vedere effettivamente quale sarà la previsione no e tendere più da un lato più dall'altro a seconda di quella che è la sua esperienza e quindi qua vi do un accenno perché sarebbe bene non guardare solo le app e le mappe ma andare a leggere i bollettini dei previsori quindi in sintesi abbiamo visto che il limite teorico della predicibilità è 15 giorni tant'è vero che abbiamo visto che i modelli generali sono a 15 giorni il simboletto prima del 15 è un circa lo skill effettivo è invece di circa 5-6 giorni ma l'ideale abbiamo detto che quella curva che tendeva al 100% è di soli 3 giorni e per esempio sempre per rimanere in Liguria le previsioni del centrometrio della Liguria sono proprio a 3 giorni perché sono quelle più affidabili non è che non si può fare una previsione più lunga però sarà meno affidabile rispetto a una previsione a 3 giorni ovviamente tenete conto che ci possono essere regioni in cui le previsioni a 5-6 giorni possono essere più affidabili per il territorio di quella particolare regione nel caso della Liguria ahimè ha una conformazione tale dal punto di vista fisico e geomorfologico per cui in realtà le previsioni sono ulteriormente complicate perché abbiamo il mare abbiamo le montagne estremamente vicino al mare quindi questo causa una serie di fenomeni che vanno a incidere sulle previsioni sul tempo meteorologico e quindi a volte è ancora più difficile fare le previsioni in Liguria quando applichiamo tutto quello che abbiamo visto fino adesso sulle previsioni meteomarine che sono quelli che ci interessano davvero ovviamente che cosa bisogna fare beh per una previsione meteomarina andremo a prendere tre elementi fondamentali il vento le onde e le correnti ora io non andrò a vedere che cosa è il vento che cosa sono le onde che cosa sono le correnti perché penso che un'idea generale l'abbiate e perché non è lo scopo di questo webinar io vorrei vedere con voi come il vento le onde le correnti vanno a influenzare le condizioni meteomarine e anche qui sottolinearvi quei caratteri che rendono più difficoltoso fare una previsione nel caso del vento per esempio allora esiste una scala che si chiama Beaufort che mette in relazione il vento e l'altezza probabile delle onde e voi mi dite ah bene allora a seconda di quanto vento viene previsto io so che ci saranno le onde di tot metri e no perché la scala Beaufort vale per il mare aperto ma non per il sottocosta perché a seconda del vento che tira ovviamente il sottocosta è influenzato dall'avvicinanza della costa e quindi bisogna stare attenti quando si leggono le scale o quando si dice ah la scala Beaufort dice che con quei nodi c'è quell'altezza d'onda eh ma dipende il mare aperto sì è sicuramente vera se io mi avvicino a un territorio allora potrebbe cambiare e vi riporto app come Wind Finder per esempio che come Subak usiamo spesso e volentieri perché sembra molto affidabile il che è vero io non sto dicendo che le app non sono affidabili sto solo cercando di farvi capire che possono essere lette in maniera più scrupolosa e con un occhio un pochino più critico e un pochino più attento lì non ci sono delle persone che fanno dei bollettini ci sono dei computer che elaborano dei dati che creano delle mappe o delle tabelle ok quindi ecco perché bisognerebbe andare un po' oltre no è vero che le app sono stracomode io le uso tantissimo anche Giorgio le usa tantissimo tutti i diving le usano tantissimo è comoda vai a vedere ti dice che a quell'ora ci saranno dieci nodi di vento e due metri d'onda è comodissima però poi se la mattina dopo guardi e all'ora in cui ti diceva che c'erano due metri d'onda c'è il mare piatto ti incavoli allora sarebbe carino andare a vedere come mai l'app diceva una cosa del genere e poi non si è verificata magari a largo c'erano i due metri d'onda ora io ho detto piatto mettiamo che non sia piatto magari c'è 50 cm magari a largo ci sono i due metri d'onda sotto cosa ci sono i 50 cm io ho annullato l'immersione perché mi dava che c'erano due metri d'onda e invece avrei potuta farla perché magari ho dei punti ridossati in cui 50 cm non mi avrebbero creato problemi ecco perché bisogna sempre stare attenti e tutto può succedere viceversa o all'app dire 50 cm poi invece c'erano due metri d'onda quando parliamo di onde invece beh l'onda praticamente la superficie di acqua del mare nel nostro caso viene messa in moto e forma questo questo movimento ovviamente l'onda del mare è un caso particolare di onda di gravità quindi onde che si propagano all'interfaccia di due fluidi con densità diverse quindi sopra abbiamo l'aria e sotto abbiamo l'acqua io vi ho messo nella slide un po' il movimento che fa ovviamente ogni onda ha una lunghezza d'onda che vedete indicata nel disegno che è la distanza tra quelle tra i due punti alti le due sommità che sono le cosiddette creste che è un po' la base della formazione dell'onda ora cosa succede nel caso delle onde ovviamente i modelli di previsione del moto ondoso lo dicevamo prima dipendono dai modelli del vento perché abbiamo visto prima che c'è una scala che li mette in relazione ok però dobbiamo tenere conto che esiste il fetch che praticamente va a identificare la superficie di mare aperto su cui per effetto del vento si formano le onde quindi noi identifichiamo uno specchio di mare dove il vento passa e forma le onde quindi l'altezza delle onde dipende sì dal vento ma dipende anche dalla porzione di mare libero su cui il vento agisce cioè se io ho la stessa quantità passatemi il termine di vento su una porzione di mare di un chilometro o su una porzione di cinque chilometri è chiaro che avrò delle onde diverse nel caso in cui ho la porzione più stretta avrò delle onde più alte nel caso in cui ho una porzione di mare più ampia più strette ho detto bene? no in realtà è vero il contrario però è importante perché cosa succede? se io ho l'oceano avrò una formazione di onde a parità di quantità di vento diversa da quella che ho in un mare chiuso come il mediterraneo quando vedete la schermata dell'amma come quella che vi ho messo io noi guardiamo i colori diciamo se c'è rosso addirittura il giallo come in questa slide il mare è terribile vedete addirittura il giallo sono 5-6 metri d'onda però quello che non notiamo mai quando leggiamo queste mappe è che noi guardiamo la scala dei colori guardando solo i numeri ma se voi guardate sotto c'è scritto significant wave height altezza significativa delle onde quella lì significa l'altezza media delle onde più alte quindi è chiaro che ci saranno delle onde di 5-6 metri ma sarà la media delle onde più alte ci saranno anche onde un pochino più alte perché è possibile ma ci saranno anche tante onde più basse quindi ecco perché è importante quando guardiamo una mappa andare a leggere bene le leggende capire che cosa significano certe sigle i modelli hanno tante varianti a titolo di esempio quello che noi in Liguria chiamiamo libeccio corto o libeccio in realtà in nord Europa è un maestrale che però per via del territorio della circolazione dei gas eccetera sulla Liguria ruota e diventa un libeccio però è importante saperlo perché quando guardiamo magari i bollettini con le mappe a livello a scala più ampia no magari ci parlano di maestrale poi vi alzate la mattina in Liguria e vi beccate una libecciata come mai perché ovviamente poi andrebbe tutto riportato a un modello più piccolo a un LAM che è focalizzato sulla Liguria poi quando ovviamente si può parlare di mare vivo se le onde sono molto alte ma sono vicine tra loro e di mare lungo invece di cui parliamo spesso quando le onde sono molto distanti tra loro in teoria col mare lungo lo sento anche in profondità però il movimento dell'onda può arrivare anche un pochino più in profondità in realtà col mare vivo quindi le onde molto alte molto vicine tra loro in realtà anche poco sotto la superficie non dovrai sentirlo poi ovviamente noi che siamo subacquei sappiamo bene che non andremo mai a fare immersione con mare vivo perché non ci sarebbero le condizioni di sicurezza mentre quando c'è mare lungo è possibile fare immersione magari in punti un pochino più ridossati o per esempio su relitti che sono un pochino più in mare aperto dove non si ha il ritorno dell'onda che sbatte contro il promontorio contro la la costa e torna indietro ma ho solo questo movimento lento e cadenzato delle onde allora potrebbe essere possibilissimo fare l'immersione comunque in sicurezza però vedete che dobbiamo considerare tanti aspetti non sempre guardare una mappa così a una prima occhiata può darci l'informazione giusta e poi vi ho fatto anche un piccolo focus sull'interazione onda fondale come quello che dicevamo prima questo chi ha fatto per esempio il corso da guida il corso dei master lo studia anche nella parte nella parte di fisica il movimento si trasmette verso il fondo sino il movimento dell'onda si trasmette verso il fondo fino a una profondità pari a metà della lunghezza d'onda quindi quella lunghezza d'onda che avevamo messo prima è un dato importante e questo è indipendente dall'altezza dell'onda quindi l'onda frange dopo aver raggiunto un fondale con una profondità che è inferiore a un ventesimo della lunghezza d'onda scusate a metà della lunghezza d'onda perché è importante perché in posti dove per esempio si fanno immersi o è importante per la navigazione anche quando si va con le barche l'onda che frange può segnalare le secche e quindi può aiutare la navigazione evitando che la barca finisca su una secca la rifrazione invece che è il disegno lo schema che trovate sulla destra invece è importante tenerla in considerazione per esempio per chi come noi Liguria va sul promontorio di Portofino perché la rifrazione fa sì che vari la direzione di propagazione delle onde a seconda dell'interazione con il fondale marino praticamente a causa di questo fenomeno i fronti d'onda tendono a disporsi parallelamente alle batimetriche che sono le linee di profondità del fondale e quindi di solito i fronti d'onda tendono a disporsi parallelamente alle linee di costa per quello quando andate in spiaggia tendenzialmente l'onda vi viene sempre in faccia perché l'onda tende a disporsi parallelamente alla linea di costa quando però ci sono i promontori come nel disegno le onde si deformano per arrivare il più possibile parallele alla costa in ogni punto per cui in corrispondenza dei promontori vedete che si concentrano sono più ravvicinate mentre nelle baie si distanziano quindi nelle baie avrò una energia minore rispetto a quella che avrò sul promontorio dove invece c'è una concentrazione di energia e quindi per chi fa fare immersione con barche o con gommoni in posti dove ci sono i promontori è importante tenerlo in considerazione perché a volte oltre a vedere una previsione come il mare poi bisogna applicarla al sito di immersione che si va a fare perché ci possono essere dei siti dove è possibile fare comunque l'immersione in sicurezza anche con condizioni non ottimali a volte dipende proprio dal sito che scegli per fare la tua immersione l'altro punto che serve per le previsioni meteomarine sono le correnti le correnti in realtà avevo messo uno schema di quelle che sono le correnti principali nel mar Mediterraneo e quindi anche sulla Liguria che vedete in cima però le correnti sono imprevedibili e impredicibili cioè possiamo ipotizzarle possiamo avere un'esperienza per cui sappiamo che ci può essere una corrente di un certo tipo però è veramente difficile prevederla io per la mia esperienza ho visto per esempio guide molto esperti in Mar Rosso o alle Maldive che ipotizzano molto bene nel 90% dei casi ci azzeccano ma quella è la loro esperienza sanno che di solito a quell'ora con quelle particolari condizioni la corrente è in un verso piuttosto che nell'altro poi può capitare che quando si va in acqua si scopre che non è così in quell'occasione qui in realtà nel Mediterraneo non abbiamo condizioni di corrente particolari come quelle che si possono trovare in altri mari del mondo però esistono le correnti anche qua quante volte abbiamo fatto l'immersione sulla avene ci siamo tuffati ed era come un fiume è quello per noi è imprevedibile a volte lo ipotizziamo se fa brutto tempo e poi andiamo a fare l'immersione il primo giorno dopo il brutto tempo ipotizziamo che ci possa essere della corrente però sono sempre ipotesi quante volte siamo stati smentiti quando poi siamo andati in acqua e quindi vedete che è un elemento che influenza le condizioni meteomarine però difficilmente lo riusciamo a a quantificare e a ipotizzare in maniera efficace oltre a questi elementi esistono anche i cosiddetti groppi i groppi cosa sono i groppi sono dei forti venti associati alle celle temporalesche questi sono importanti per le previsioni meteomarine è uno i groppi sono un altro elemento oltre a quelli precedenti che entra in gioco che però è bene tenere in considerazione quando si sviluppa una cella temporalesca che cosa succede se mi seguite sul disegno abbiamo dell'aria calda e umida che sale e che crea una nuvola la nuvola arriva sui 10-12 km poi oltre quella soglia non può andare quindi si forma quella sorta di incudine che vedete nella foto quello lì si chiama cumulo nembo che è una nuve denza di notevole sviluppo verticale di solito con la sommità bianca a quel punto comincia a piovere e di solito nel giro di 30-60 minuti la nuvola si dissolve è chiaro che nel momento in cui però si sommano diverse celle temporalesche allora si forma un fronte di linea un fronte a mucchio quindi si creano dei fronti temporaleschi più importanti esiste esiste un'app carina che ha Livestorm che fa vedere l'evoluzione delle celle temporalesche ovviamente in una previsione meteomarina va tenuta in considerazione perché può influire su quelle che sono le condizioni andiamo a vedere ora come leggerle le app allora il consiglio non guardate ne una sola quando noi adesso io do dei consigli perché ormai le app sono alla portata di tutti ce le abbiamo tutti sui telefoni le guardiamo tutti e quindi è inverosimile pensare che solo le guide solo i titolari dei diving le guardino la verità è che loro le guardano ma anche chi va a fare immersione le guardano infatti poi si si creano a volte dei quiproquo perché magari si legge la stessa app e la si intende in maniera diversa il consiglio intanto è guardarne diverse il consiglio per quello che riguarda la Liguria è guardare il sito del centro funzionale meteoidrologico di protezione civile però non guardare le mappe andare a leggere i bollettini dei previsori torniamo a quello che abbiamo detto prima abbiamo visto che c'è un'impedicibilità dell'atmosfera abbiamo visto che le app elaborano i dati dei computer e creano dei modelli che possono essere mappe schemi tabelle ma nascono da un computer non c'è nessuno dietro che ci mette del suo abbiamo visto che i modelli possono essere basati su un modello generale che però potrebbe essere non focalizzato sull'Europa e sull'Italia ma per esempio sull'America e quindi la previsione potrebbe avere qualche problema su questo quindi abbiamo visto che abbiamo tanti dati ma comunque ci sono dei dati che vengono inseriti ipotizzati con delle tecniche di interpolazione quindi mettiamo tutto questo insieme e da tutto questo impariamo che nasce una previsione allora è importante che non ci fermiamo alla mappa a cui manca uno step fondamentale manca una persona che ha studiato meteorologia che ha una conoscenza approfondita di quel territorio e di come i fenomeni meteorologici si sviluppano in quel territorio e che quindi emette un bollettino sulla base della sua previsione e che quindi sulla base di tutte quelle di tutti quei forecast che vi avevo fatto vedere prima va a scegliere quale è effettivamente la previsione più probabile che si verifichi e la emette nel bollettino non vi sto dicendo che se leggete il bollettino il 100% sarà giusto però sicuramente c'è questo step grande dato dal previsore che è importante e che può fare la differenza tra noi che leggiamo una mappa e invece una persona che ha studiato per fare quel lavoro lì che ha una preparazione particolare e emette un bollettino vi faccio l'esempio dell'AMMA nell'AMMA il modello WW3 a 10 km si basa sul modello americano non è non ha il focus sul modello europeo mentre quello a 3 km si basa sul modello europeo quindi sicuramente quello a 3 km è più è più preciso no l'altra cosa che dovete tenere in considerazione questo ripeto lo riporto sulla Liguria perché abbiamo alcuni esempi molto particolari noi sappiamo soprattutto chi fa immersioni spesso sulla AVEN chi viene con noi che c'è che esiste un fenomeno esiste un vento alla tramontana no che incide particolarmente sul nostro andare sulla AVEN perché a volte rende difficoltoso passare un certo tratto di mare per raggiungere il sito di immersione bene in caso di tramontana questo aumento di vento travoltre indicativamente San Piero d'Arena sui modelli non c'è non viene riportato noi con la nostra esperienza sappiamo che quando c'è tramontana in quel tratto c'è un aumento particolare che potrebbe rendere impossibile arrivare al sito di immersioni ma se andiamo a leggere la mappa dell'app non lo troviamo indicato quindi vedete che ci deve essere sempre uno step in più oltre a quella che è la mappa di un'applicazione e poi ricordatevi sempre quell'S W H dell'AMMA che è un'altezza media delle onde più alte quindi quando la leggiamo dobbiamo ricordarci questi parametri quindi sperando di non essere stata troppo noiosa la mia conclusione è in primis fidatevi degli operatori con cui andate perché gli operatori con cui andate che siamo noi o che sia comunque qualunque diving salvo casi particolari anche se non sono dei meteorologi hanno esperienza per quel particolare territorio per quei particolari siti di immersione quindi sanno che magari in determinate condizioni di vento e mare è possibile comunque fare quel tipo di immersione perché è ridossata perché non ha posizione particolare per tutta una serie di motivi noi per quello che riguarda Amici di Bolle siamo in formazione continua cioè vi ho messo a titolo di esempio l'attestato appunto di questo corso di qualificazione per guide ambientali cioè cerchiamo sempre di aumentare le nostre conoscenze la nostra possibilità di farvi divertire ma farvi divertire in sicurezza garantendo la vostra sicurezza e questo vuol dire anche scegliere quando è il caso di andare in acqua e quando non lo è andiamo a visionare diverse app non una sola app andiamo per una volta provate una volta a leggere i bollettini dei previsori proviamo una volta invece che fermarci il disegnino che è molto rapido e veloce ad aprire bollettini e andare a leggere che cosa quel previsore ha scritto per capire che cosa sta dietro un modello tante volte quando ve l'ho detto prima no capita che cosa che annulliamo l'immersione prima perché non vogliamo farvi perché pensiamo che ci sia un'alta probabilità che l'immersione non sia fattibile e quindi vi chiamiamo la sera prima e vi diciamo no guarda domani mattina dormite pure che non si va oppure vi facciamo venire al mattino io un sacco di volte dico vabbè ma dai ci vediamo lo stesso al diving se proprio non si può andare poi facciamo due chiacchiere facciamo colazione insieme facciamo lezione manutenzioniamo dell'attrezzatura a fine di questa emergenza probabilmente lo farò ancora di più se non c'è mare buono perché così stiamo insieme facciamo comunque qualcosa insieme anche se non è l'immersione no beh il risultato tante volte è quel paperino lì che vedete non sempre è tanto non sempre è compresa in un verso o nell'altro la decisione da parte nostra no però vi posso assicurare che il nostro punto focale è sempre 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 la vostra sicurezza sia che annulliamo sia che decidiamo di andare no non lo facciamo mai a cuor leggero facciamo tutte le valutazioni che abbiamo visto prima facciamo le valutazioni su qual è il sito che andiamo a fare su qual è l'esperienza dei subacquei che portiamo è chiaro che se porta un subacqueo di primo livello è diverso che se porta un subacqueo che ha un brevetto trimix ipostico hanno esperienze diverse hanno fatto tipi di immersioni diverse che possono affrontare situazioni in mare diverse facciamo anche delle considerazioni su chi deve venire in acqua non è che io non so chi patisce di più il mare e chi lo patisce meno è chiaro che lo tengo in considerazione il succo è la sicurezza prima facendovi divertire e quindi noi veramente teniamo in considerazione tutto questo bagaglio di informazioni e se capita qualche volta che finisce così a cappuccino e focaccia non vogliate perché davvero la voglia di andare in acqua anche da parte nostra è veramente tanta sempre e lo sarà ancora di più quando finiremo questa questa emergenza sperando che ci diano l'ok per fare qualche immersione e quindi se davvero vi diciamo che non è il caso di andare è proprio perché non è il caso di andare non perché non ne abbiamo voglia perché è proprio tutto il contrario quindi io spero di non essere stata troppissima noiosa anche se non era un argomento proprio proprio facile e sicuramente il prossimo sicuramente sarà molto più di diletto e molto più apprezzabile da tutti quindi io adesso lascerei lo spazio alle domande con la moderazione di Giorgio così vediamo se qualcuno ha dubbio se volete approfondire qualcosa vi ricordo però i prossimi appuntamenti appunto sabato facciamo le balene sapete che abbiamo già parlato dei cetacei ce ne ha parlato Lucia benissimo ha fatto quella panoramica su tutto il mondo dei cetacei e proprio perché sono insomma gli animali che secondo me ci piacciono di più come l'altra volta abbiamo fatto gli squali questa volta ho pensato di fare un focus invece sulle balene su questi grandi grandi abitanti degli oceani che tanto ci affascinano e che non è così facile incontrare quando facciamo immersioni dopodiché vi anticipo che vi manderemo il link a breve che pubblicheremo su tutti i social un evento un pochino più particolare che è lunedì 27 aprile che è una serata scritto Paddy Pro è aperta a tutti a chiunque abbia anche solo una volta pensato di diventare un professionista della subacqua e anche a chi invece ha pensato non lo farò mai perché non è per me bene è una serata molto nel massimo un'ora e un quarto un'oretta un'ora e un quarto insieme non ci saremo solo noi ci saranno altri centri del nord Italia tutti sotto la guida di un direttore di corso e vi faremo semplicemente una panoramica di quelle che sono le possibilità a livello professionale nella subacqua così per curiosità per fare due chiacchiere ci sarà modo di intervenire e di stimolarci in questo momento in cui siamo tutti a casa di stimolare delle domande per poi poterle approfondire insieme tra di noi magari qui su Zoom e poi ultima cosa sabato 2 maggio che è già in programma alle 17 vorremmo fare questo questo meeting con una presentazione di quelli che invece sono i corsi primo livello e qui davvero come già vi ho detto e vi ho scritto vorremmo il vostro aiuto portate un amico portate qualcuno che non ha mai fatto subacqua portate qualcuno che vi ha detto ah non lo farò mai perché ho paura oppure portate qualcuno che vi ha detto ma in effetti ci stavo pensando perché serve alla vostra associazione a chi è socio di Amici di Bolle sappiate che ad Amici di Bolle serve ma è aperto anche agli altri istruttori che in questi webinar ci sono ci stanno seguendo perché più ne parliamo di subacqua con chi non la fa e meglio è che secondo me è un modo è un volano per richiamare le persone e in questo momento in questo momento di emergenza covid in cui abbiamo tantissimi altri problemi però il settore subacqueo ne risentirà come altri in maniera particolare più persone vengono a conoscenza del fatto che esistiamo e che è uno sport anche la subacquea e più ci può aiutare in questo momento quindi senza impegno senza voler sovrastare problemi che sicuramente sono più gravi però nel nostro piccolo vogliamo darci delle occasioni per per distrarci un po' per rilassarci insieme per darci dei momenti insieme anche se a distanza ora chiudo la registrazione è un po' Grazie.